La evoluzione di Vincenzo Iologi Vincenzo Iologi ha cercato di superare i suoi assunti formali mostrando una certa evoluzione nella sua attività anche se fu capace di innovarsi nel linguaggio espressivo pur rimanendo fedele a se stesso in un primo periodo dopo la sua cittura statistica era quella tipica della pittura morelliana con alcune influenze di Francesco Paolo Vittenti distinguendosi al punto della perellata e per la ricca tavolozza climatica che rimarrà sempre una connotazione tipica di Vincenzo Iologi e primi anni di attività vinse quasi al ritmo sostenuto lavorando verso la casa paterna di Calvizzano e periodicamente si legava a Napoli dal mercante d'arte Ragazzino ottenendo comunque un buon successo fra le famiglie soprattutto dei uomini infatti Ragazzino aveva una tele di vendita di opere a Uri in questo periodo quindi la sua popolarità e le sue attivazioni aumentarono soprattutto dopo il primo dopoguerra suscitando il disperso di alcuni critici che lo porravano come editori mondiali questi critici oltretutto transisti, demolitori e margassisti che snobbavano le opere di Vincenzo Iologi più per interessi personali e senza valutare forse anche per disimpegno di capacità espressiva dell'artista egli comunque delle critiche fu sempre mordurante e continuò in scuola da producendo opere di pregio che gli elevavano qualità come dice appunto il suo progetto di Nicola Manca nel libro Economie e società e cultura napoletana tra 800 e 900 testimonianze vecchie mondi di Vincenzo Iologi ecco questo secondo periodo di Vincenzo Iologi la sua divita artistica assume un linguaggio più poetico ed è indirizzato verso una periodata sempre vigorosa con un formatismo ancora più acceso e con uno stile che dipendeva alcune caratteristiche dell'altro grande pittore napoletano di Tozio come Antonio Nancin ma vogliamo che il suo stile diventa ancora più elegante e forse anche un po' decorativo è sospeso tra le immagini del fruttore patto e margassisti e le suggestioni secessioniste quindi stiamo pieni avanti la sua arte quindi piano piano evolve in un gesto vittorico sempre più libero con una ricca tessitura coloristica e con i riflessi dorati particolarissimi quindi i riflessi dorati sono anche presenti nel primo dipinto l'attività artistica invece dell'ultimo periodo di Vincenzo Iologi fu caratterizzata da un linguaggio pienamente moderno lontano da quella dove l'hanno nei decenni precedenti la stesura è a macchie colorante ed è presa tramite le pesate tricolose ricche di materia che si sono realizzate con disimoltura in attenzione tocco le impressioni di luce e di colore sono finalizzate e idealizzate verso soggetti mutuati dalla quotidianità egli era consapevole che la sua pittura poteva essere considerata per alcuni aspetti antiquata ma l'oliporale è fatto per la costante richiesta di collezionisti amici e di me e quindi continuò a dipingere di stare fedeli al suo personalissimo e come costruito adesso invece passiamo alla seconda parte del nostro seminario con l'accoglimento di due litri di Vincenzo e di Rolli le opere che presentiamo oggi sono state gentilmente concesse per questo nostro seminario di libro la prima opera Bimba con Pachini ne ho detto che è un acquarello su carta alla carta a mano ed è stato dipinto nel 1930 la carta a mano misura 40 x 30 cm con firma in basso a destra il lavoro vittorico è appunto di grande naturalezza e schiettezza esso è caratterizzato da una venerata armogliosa pilico di Vincenzo e Rolli l'opera è stata esposta verso la Galleria Sianesi di Milano nel 1945 con il numero di catalogo 53 e a retro di questa carta poco spessa abbiamo anche l'etichetta di questa mostra del 1954 che curò il critico Perticcione quindi proviamo a vedere quindi abbiamo veramente un piccolo topolavoro di Vincenzo e Rolli nell'insieme come possiamo notare l'opera è chiara ed è di facile lettura propone in primo piano una bambina raggiante con un sorriso accattivante che dimostra appunto la sua bonità la bonità d'animo e che legge a fatica questo grosso latino però si rivolge allo spettatore con un sorriso quasi mitomatico c'è anche il personaggio illustrato nel dipinto e ben proporzionato grazie alla forma stilistica che l'artista è riuscito a dargli fornendo una luminosità poetica ed emozionale che solo Irodi riesce a dare le sue opere di particolare interesse è lo sfondo policromo del secondo piano che presenta un muro di un casolare in pietra con l'ingresso di un collano più basso a sinistra che sono montato da un piccolo arco di mattoni grigi che potete mirare e più in alto una finestra con una tenda a metà altezza verde curioso addirittura il cerciato di ciottoli dell'aria che è molto particolare proprio per questi colori cromatismi messi insieme in questo lavoro i colori sono peculiari e si basano su tonalità chiare con toni non cubi che mostrano la rigenza compositiva del grande maestro napoletano il dipinto che vi rappresenta è essenzialmente una scena di genere ambientata in un'aria di campagna e sono una visita pubblicità che richiama l'attenzione dei musei lo stile del dipinto di Vincenzo Irohio è quello tipico del premismo vendito infatti in questo lavoro si nota l'influenza del post impressionismo e della tecnica divisionista nell'accostamento di macchie di colore sovente intervallate dal cartoncino di fondo e in questo modo Vincenzo Irohio riesce a conferire all'opera un rinissimo un'armonia compositiva di grande rilevanza in questo lavoro egli esprime una serenità grazie ai documenti non fettorosi la pennellata in quest'opera è precisa ben calibrate ed è tipica dei lavori realizzati dopo 1920 nell'inizio la composizione mostra un rinismo che conferisce al lavoro vittorico un'armonia particolare probabilmente l'opera è molto dolce e forse un po' esuberante nella felicità e nella serenità quindi ecco e questo è quello che ricercavano i suoi collezionisti i suoi appassionati indubbiamente l'opera del maestro Vincenzo Irohio riempie nella schiera delle scene di genere che ha aperto in Campania che sono una tematica ricorrente nella singolare ricerca artistica del maestro Campania globalmente il lavoro riprende alcune opere di Corsignac come ad esempio l'opera L'Esté del 1912 per alcune caratteristiche dei muri nella chiesa di Notre-Dame che sono simili ai muri che sono presenti in quest'opera quindi parliamo del massimo esponente del pointilismo francese e di Vincenzo Irohio vedete questa concomitanza è una delle concomitanze che sarà sottolineata anche dai critici francesi quando Irohio rispone i battagli mentre la seconda opera di Ritorno dalla Scampagnata è un acquarello sul cartoncino che è a misura 17,2 cm per 25,2 cm con firme in basso sinistra il lavoro è caratterizzato da una benedetta armoniosa tipica del maestro Irolli e nella sua globalità l'opera si mostra chiara e anche qui di facile lettura propone in primo piano quattro donne vestiti con amici sgargianti che stanno ritornando a casa dopo una scampagnata franche quindi già il soggetto è un soggetto modere le loro insieme appunto i personaggi sono ben proporzionati nel secondo piano invece possiamo notare un boschetto si trovano al fianco delle quattro donne che rientrano a casa con un po' e una presenza di una donna con in braccio un bambino che si trova un po' più in fondo e ancora più in fondo un'altra donna nello sfondo possiamo notare l'ultimo alto boschetto in alto sinistra e un montagna un rilievo che è vista di profilo in questo momento i colori hanno tonalità un po' più vivaci e hanno queste sfumature gialline tipiche degli anni 10, 12, 13 del novecento della produzione di Vincenzo il periodo della secessione viennese e berlinese che richiamavano che mettevano in queste loro opere questo richiamo alla luce che essenzialmente è un richiamo all'arte italiana del trecento e del quattocento il lavoro rappresenta una scena di genere ambientata in una campagna e anche questo esprime appunto la la classica visione e la classica attenzione di Rolio verso appunto le scene di genere ambientata in campagna perché Vincenzo Rolio pure se aveva una convittenza essenzialmente con le collezionistiche borghesi principalmente borghesi tratta borghesia i grandi avvocati i grandi medici napoletani di quel periodo ecco però portava sempre la realtà che fosse vissuto dal bambino vivendo appunto in un piccolo paesino del napoletano in ora di qui lo stile del divinto è quello appunto di questo secondo periodo di Vincenzo Iroli e si trova appunto un'impronta impressionista soprattutto se uno tiene presente la pittura impressionista che si sviluppa fuori dalla Francia e questo ci sono proprio dei richiami anche nel modo di eseguire la pennellata la pennellata è abbastanza precisa ed è tipica dei lavori di questo periodo dei primi anni del novecento nell'insieme è un'opera abbastanza gradevole e piacevole bisogna sottolineare che certamente Vincenzi Iroli con la tecnica dell'acquarello riesce diversi al meglio mostrando appunto le sue capacità compositive espressive e soprattutto la sua liricità e il suo richiamo a una bellezza senza tempo che appunto la sua cifra stilistica creativa che rimane sempre nella sua attività come abbiamo visto si è sviluppata nel tempo modificandosi certamente anche questa opera rientra appunto nella famosa schiera delle opere di genere all'aperto e in campagna che sono appunto una tematica tipica di Vincenzo Iroli questo lavoro artistico per sommi capri riprende varie opere di Filippo Wilson VII come ad esempio nel nove la spiaggia West East del 1890 per alcune caratteristiche dei personaggi quindi siamo aggiunti al termine del nostro seminario di storia dell'acqua vi ringrazio per l'ascolto per la partecipazione che avete mostrato e vi ricordo i prossimi appuntamenti del circolo culturale che sono lunedì 6 aprile 2020 alle 18.30 qui al circolo della stampa terremo un incontro dedicato ai 500 anni della scomparsa di Raffaele Sanzio Sanzio già invito già da sindora a passare una oretta insieme a noi per ricordare il grande artista Raffaele Sanzio che parleremo e vi faremo delle opere di Raffaele Sanzio naturalmente in video non è che è giustamente quindi vi ringrazio e do la parola alla nostra amabile e bravissima moderatrice grazie